Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Taste of Zestiria, io sono Leone e siamo qui oggi pronti per continuare con la domanda della volta scorsa. Andiamo verso il punto di controllo, dopo aver esplorato tutta questa zona e ne aver trovato un modo per arrivare dall'altra parte, vediamo cosa ci dice. Ancora l'hai capito eh? È tutto chiaro, c'è una scala nascosta lì sotto. Chi l'hanno detto che qui si può camminare a mezz'aria? Beh, vedendo quella cosa lì io direi che qui si può camminare a mezz'aria, così per scherzare. E quindi sì, si poteva camminare a mezz'aria, perché c'è un ponte invisibile. Questo è un punto di interesse che farà avviare ogni tanto la scenetta, premendo il tasto così. E quindi come si può camminare a mezz'aria? Questo è quello che non si può creare un'acqua senza il suo lavoro. E quindi questo è tutto questo? Questo è tutto quello che si può camminare a mezz'aria in un periodo di Dio? Devevo dire il fatto che non si può camminare a mezz'aria, ma non è vero che ho fatto. Non è vero che non si può mettere il campo di cattopo. Ok, questa scena è sui punti di interesse Quindi direi che possiamo andare a parlare con la ragazza e vedere un po' cosa succede A controllare la ragazza, usatevi E' un po' di più ... Grazie Non ci sono un'estima di più che qui ci sono più tranquilla, e mi piacerebbe fare una preparazione di Miaco. ...d'accordo, mi piacerebbe... ...d'accordo? ... ... ... ... ... ... ... Alla prossima. Surei, grazie a tutti. Di una formica morta, molto probabilmente, ma non vi preoccupate per il resto. Comunque, ragazza misteriosa che non sappiamo il nome, che non ci dice, non ho già detto il suo nome, non può vedere, mi creo, che è un serafino. Quindi, yeh, andiamo avanti. Splicemente, qua non ho molto su cui commentare, perché direi forse un sacco di immaginate. Vorrei, tipo, vedere se c'è qualche scena qua che posso far vedere, no? Grazie, giusto, perché noi abbiamo messo e settato in modo tale che lui prepari ogni tanto stuzzichini, cioè stuzzichini, roba a mangiare. Scendiamo qua sotto, giusto perché sì, per esplodare. Questa è la cosa che ho fatto anche la prima volta che ho giocato, quindi la voglio riproporre anche qui, quindi va bene. Punto di salvataggio che ci passo, perché fa sempre figo, anche se non salvo. Non si apre, non vedo nessun meccanismo, e non vedo nessun meccanismo nascosto, che strano. Ok, va bene. Grazie per avermi fatto sapere che quella non è una strada giusta, a quanto pare. Ritorniamo sopra e andiamo semplicemente dietro la statua a vedere se c'è un'uscita o qualche cosa del genere, o se c'è un modo per tornare al villaggio che non conosciamo ancora. Quindi vediamo un pochettino. Apri qui e proseguiamo. Sì, è vero, lui non sa neanche cosa vuol dire scetticismo. Sì, è proprio vero. Sì, è 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 vero. Sì. Sì. Sì, è vero. 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 Sì. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì. Sì, è vero. Sì. Sì, è vero. Sì. Sì. Sì, è vero. Sì. Sì. Grazie Gigi Mi sono capito Mikulio Il tuo figlio è direttamente E' proprio E' proprio E' un problema E' un problema Oh, ok Piccolo, va bene Perfetto abbiamo avuto una bella situazione Sul quadro generale di come funziona Come funziona Più o meno la storia tra serafini I umani in questo momento Ritorniamo indietro e dirigerci Alla casa di Sori e voi aspettare in altra stanza Si, non ho niente a tutto da fare per ora Perfetto C'è la possibilità La sua pronta E' la mia pronta Esa è un modo L'imperature Che succede Que… È una pronta Ma cosa… Forza Se incontriando ...e che si tratta di un'esplice e che si tratta di un'esplice... ...d'accordo... ...d'accordo... ...d'accordo? ...d'accordo? ...d'accordo che non vediamo il resto del Dio... ...d'accordo, che ti dà! ...d'accordo... Sì, guarda, non puoi giocare con le cose che ho fatto Sì, sì Sì Sì, è lì, è lì Sì, vieni a vedere Andiamo a vedere Quindi Questo è proprio un momento di trama, iniziale, ogni RPG iniziale, lo sappiamo tutti, dai Ok, andiamo da dietro, sì, è proprio... Sì, è proprio così, i primi RPG iniziali, ragazzi, vi dispiace Sì, vai Sì 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 Buongiorno, Mikurio. Mikurio, presto! Non c'è tempo che non c'è? Entendete, andiamo. Gigi mi piace di tutto ciò che mi piace. Mi sembra di essere morto. Ah, ok, non ti preoccupi di questo. Non ti senti. Gigi mi piace. Ok, capisco. Grazie a tutti. Mi fa troppo morire il fatto che lei è rimasta dietro, tipo aspettando come per dire, ma che cazzo di problemi c'ha a questo? No, rimane tutto il tempo così per dire, ma che problema ha questo nella vita, perché parla da solo? E poi tranquillamente, sei pronta? Sì, sì, sono pronta, andiamo, abbiamo bisogno di cacciare, sì, ok, andiamo, andiamo nella zona di caccia, facciamo un po' di caccia. Veloce, e poi concludiamo qui per questo episodio. Per i vi sono molto lenti, poi si avrà l'accelerazione della vita, no dai, neanche troppo. Mi amanti, non pretendo di accelerare, ma pretendo di gestire in un altro modo queste cose. Grazie. Grazie. Grazie a tutti Mi chiedo se mi fa vedere il party Quello posso controllo E quindi mi spoilerai il suo nome o meno Scusate Sto riprendendo Dall'utilizzo Di altri giochi Action Quindi si va bene così Comunque veramente mi manca La mobilità che si ha più avanti Nel gioco Per adesso non è nulla questa mobilità Veramente Anche perché mi mancano tutta la roba Che mi permette di fare attacchi in modo serio Eccetera 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 E' proprio facile In realtà c'è una descrizione Dei nemici Dei animali o di quello che cacci C'è quello che combatti qua Quindi Se premendo il tasto Questo tasto mi fa vedere le caratteristiche Che è ciclospino bestiale Quanta vita ha e più o meno come funziona Mi chiedo una cosa giusto Perché non vai all'attacco Lei non va all'attacco Concentra attacchi Vabbè Ho iniziato qui Pagiamento aumentato E va bene così Ok Quindi direi che Se mi fa vedere il party Magari No il nome non me lo spoiler È furbo il gioco Comunque Buon attacco Un po' meno Attacco arte di Cioè un po' più attacco arte di Surei Statistiche migliori Statistiche migliori Terni concentrazione E basta Sì Esatto In ogni caso Spero Che Questo video sia piaciuto Se vi è piaciuto Vi ricordi Iscriviti Comentari Lasciami mi piace Qua da noi è tutto Ciao ragazzi A un prossimo video Ciao Ciao